In vendita a Novara, Artecasa vi propone questa villa di testa di grandi dimensioni, posizionata in zona di sicuro interesse. La villa è disposta su due piani principali, oltre ad un grande piano interrato e a un piano sottotetto. È composta al piano terra da un grande salone con camino, zona pranzo anch'essa con camino, cucina con terrazzo. Al primo piano troviamo quattro camere e due bagni. Al piano interrato abbiamo diversi locali molto comodi quali lavanderia, cantina, un locale con camino e altri due bagni deposito. Completano la proprietà un grande giardino perimetrale e un'autorimessa. Per tutte le informazioni Artecasa Immobiliare è a vostra disposizione. Artecasa, l'arte di vendere case.